signori buongiorno e bentornati nel canale del master cae io sono il master cae il vostro ospite su questo canale ritorniamo a parlare del d20 system e nello specifico di come questo sistema si adatta allo stile del sandbox ma prima una comunicazione di servizio l'ho già detto nello scorso video ma mi ripeto anche questa settimana io tra due settimane farò come ogni anno lo speciale per il compleanno del canale e come ogni anno risponderò a tutte le varie domande che voi del pubblico non avete mandato e dato che io la prossima settimana quel video devo girarlo e montarlo questa è l'ultima settimana in cui accetterò domande perché poi devo mettermi al lavoro quindi se avete qualcosa da chiedere che non riguarda un video nello specifico ma qualcosa su di me sul canale in generale scrivete nei commenti qui sotto qual è la vostra domanda specificate domanda per il compleanno quello che è io le raccoglierò tutte e vedrò di rispondere se non a tutte alla maggior parte possibile magari radunandole a gruppi come ho fatto negli scorsi e detto questo va bene torniamo a noi stavamo parlando del d20 stavamo parlando del d20 system o la smettiamo di fare casino che io qui c'è un video da girare e uno si aspetta di lavorare con dei professionisti e invece come stavo dicendo questa settimana andiamo a parlare del d20 system e di come adattarlo al sistema escrowl o comunque a una gestione della campagna di tipo sandbox e per farlo andremo a introdurre il concetto di monster pool uno dei principali problemi quando si ha a che fare con un sistema di gestione sandbox è quello che il sandbox stesso prevede che i giocatori abbiano il massimo della libertà personale e quindi abbiano il massimo dell'iniziativa in come verrà poi gestita effettivamente la trama della quest questo porta al fatto che la storia potrebbe essere soggetta a improvvisi e repentini cambiamenti di trama in maniera del tutto inaspettata sia per il master sia anche per i giocatori spesso testi spesso qualche settimana fa in un altro video ve lo lascio linkato qui sopra abbiamo visto come affrontare questo problema in base ai possibili spostamenti del party questa settimana invece scendiamo un attimo più nel dettaglio e andiamo a vedere come gestire gli incontri stessi scrivere un mostro nel sistema di 20 è qualcosa di relativamente lungo e se andiamo a parlare di scontri di livello oltre il decimo che comprendono due o tre tipi di mostri differenti potremmo parlare letteralmente di ore di lavoro di preparazione per quei singoli incontri ovviamente queste sono tempisti che non possono assolutamente essere gestite durante la sessione quando il party cambia radicalmente idea e decide di non affrontare lo scontro che ha stato previsto ma di affrontare qualcosa di del tutto diverso a meno che i vostri giocatori non apprezzano sessioni in cui giocano cinque minuti e poi passano due ore a guardare voi che scrivete l'incontro in quel caso meglio per voi nessun problema il monster pool è proprio il sistema che è stato sviluppato nel corso del tempo e che permette di poter improvvisare rapidamente un incontro lasciando la maggior parte del lavoro di preparazione appunto nella fase precedente all'inizio della sessione o anche proprio precedente all'inizio della campagna ma dando comunque al master la flessibilità di poter organizzare qualcosa di nuovo e coerente con quello che sta succedendo di volta in volta anche con pochissimo preavviso proprio zero preavviso e fondamentalmente il sistema prevede appunto di creare una cisterna di mostri la monster pool da cui poi il master possa andare a pescare una serie di mostri per creare sul momento un incontro adatto a quello che i giocatori stanno facendo detto così immagino che la cosa sembri contraddittoria come si fanno a preparare precedentemente i mostri se non si sanno quali sono gli incontri in cui questi mostri dovranno essere utilizzati questo potrebbe essere vero se la monster pool fosse semplicemente un elenco di mostri un database di mostri comunque un gruppo casuale di mostri che voi andate a estrarre a caso ogni volta che dovete piazzare uno scontro tra l'altro gestire la pool in questo modo è proprio il classico eroe del neofita la pool infatti è tutt'altro che casuale ma deve essere composta da creature scelte apposta per essere utili a questo genere di metodo di creazione degli incontri e per essere sicuri di quali creature mettere o non mettere fondamentalmente si usano due criteri di base la ragionevolezza e l'adattabilità quando parliamo di ragionevolezza o per meglio dire ragionevolezza dell'incontro si intende quanto è probabile o per meglio dire quanto è verosimile che quella determinata creatura possa essere incontrata all'interno della vostra quest volendo fare un esempio diciamo che la zona iniziale del vostro sandbox è un villaggio al limitare della foresta che è vicino a un tumulo infestato dai non morti e un villaggio di goblin che periodicamente vengono e cercano di razziare il villaggio degli avventurieri in quanto sandbox i giocatori potrebbero andare ovunque ma è estremamente probabile che o vadano nel dungeon o vadano al campo dei razziatori goblin e anche nel caso decidono di andare a esplorare altre zone evitando queste due anche solo per allontanarsi dal villaggio iniziale dovranno passare vicino a una di esse è ragionevole supporre quindi che nelle prime fasi della vostra quest ci sarà un incontro o con i goblin o con i non morti in un caso come questo la cosa migliore è cominciare a popolare la nostra monster pool con due o tre tipi di goblin due o tre tipi di non morti che poi possano essere mischiati tra di loro per dare ancora più varietà agli incontri e magari aggiungerci anche qualche creatura generica che può vivere in una foresta di grado di sfida appropriato se si vuole introdurre qualche variazione perché i giocatori hanno fatto già troppi incontri un determinato tipo l'altro principio fondamentale è quello dell'adattabilità alle situazioni di gioco cioè la possibilità che l'incontro o meglio parti dell'incontro possano essere estratte e reincorporate in un altro incontro o che l'incontro possa essere proprio preparato nella sua totalità in modo da venire incontro a più situazioni di gioco possibile riprendendo il nostro esempio nel tumulo potrebbe vivere un necromante che abbia particolari poteri di controllo dei non morti e a capo del villaggio dei goblin potrebbe esserci un goblin guerriero o un goblin ranger con una build particolare particolarmente ostico da affrontare la maggior parte però dei mostri che generano le relative zone saranno qualche tipo di generico scheletro guerriero con spada e scudo e nella foresta qualche combattente goblin con l'arco corto questi saranno la maggior parte dei nemici che i giocatori dovranno andare a incontrare di conseguenza questi dovranno essere i primi mostri a essere inseriti nella pool anche volendo lasciar stare ogni discorso di coerenza o verosimiglianza del mondo di gioco solo per come funziona la narrativa di riferimento in sistemi come il d20 system sarebbe veramente anticlimatico che il malvagio necromante signore del tumulo venisse sconfitto ai giocatori che lo incontrano per caso per la strada mentre stanno uscendo a locanda lo scontro con il boss arriverà sempre dopo una serie di incontri probabilmente una lunga serie di incontri con i suoi minion sulla strada per arrivare al boss finale quindi l'incontro col boss può essere sicuramente qualcosa di particolare che scrivete apposta il boss avrà la sua build studiata a tavolino apposta per quello scontro e magari lo scontro sarà anche ambientato su un terreno particolare che lo renda ancora più ostico per gli avventurieri ma dato che qualcosa che sicuramente arriverà più avanti e che sicuramente arriverà dopo una lunga serie di altre cose quindi avete praticamente la ragionevole certezza di sapere voi quando arriverà non è la prima cosa su cui dovete concentrarvi i giocatori sicuramente affronteranno molti minion prima di arrivare a lì quindi i primi mostri che avrete bisogno saranno appunto questi minion concentratevi sullo scrivere uno o due tipi di minion generico per tipo in modo da avere una base con cui andare a creare degli incontri potreste per esempio preparare tre tipi diversi di minion goblin un goblin con spada e scudo che ha ingaggi gli avventurieri in corpo a corpo uno con un'arma da tiro che li ingaggia a distanza e poi un goblin bardo che suona il tamburo e che baffa tutti gli altri durante il combattimento mischiando tra di loro queste varie istanze di goblin potete creare 4 o 5 incontri diversi uno in cui saranno presenti solo goblin con spada e scudo uno in cui saranno presenti solo arcieri gruppi misti con più di un tipo di mostro o più di un altro in base a quello che sembra più ragionevole in quel momento in gioco il malvagio necromante che controlla i non morti nel tumulo nella fase iniziale della quest sarà un terribile boss finale che arriverà in fondo al dungeon ma magari specializzate su equipaggiamento ma non tanto la sua build in modo tale che quando i giocatori arriveranno agli ultimi livelli e dovranno affrontare il malvagio dio della non morte il profilo che avete già scritto per il boss necromante di basso livello potrebbe diventare quello semplicemente di un generico cultista che marcia nelle armate del dio della morte e che magari venga incontrato in due o tre istanze insieme a un necromante ancora più potente che diventerà il nuovo boss lo scopo in pratica è quello di scrivere il minor numero di mostri possibili ma che possa creare una grande quantità possibile di mostri e che possano essere riciclati nella maggior parte delle situazioni possibili per ora io ho sempre parlato di scrivere i mostri diciamo che questa è una mia deformazione per via di una preferenza personale io come Master Kai preferisco sempre scrivere da zero tutti i mostri che poi porterò in quest ma questo non è assolutamente lo standard e non è neanche una cosa che dobbiate per forza fare anche voi anzi soprattutto in casi al genere quando si va a preparare una monster pool è meglio mettere enfasi sulla quantità a discapito della qualità mentre i giocatori affrontano vari incontri con mezza dozzina di goblin per volta durante la loro esplorazione del dungeon il fatto che il goblin sciamano sullo sfondo abbia due punti in più o due punti in meno di cluster matura un incantesimo in più un incantesimo in meno poi probabilmente non verrà neanche notato per cui non siate troppo ossessivi sul fatto che ogni incontro debba essere perfetto sicuramente più ponete attenzione ai dettagli e più siete aderenti alle regole dei mostri meglio rimarrà la quest finale ma non è necessario che stiate a perdere troppo tempo essere troppo ossessivi su queste cose ma ad esempio i mostrari sono pieni di creature ad esempio che potete prendere pari pari e buttare nella vostra monster pool ma potreste anche riciclare per esempio mostri che avete già scritto per altre quest che sono già pronti e semplicemente li sbattete dentro ricordate che la quest è come il maiale non si butta via nulla fin tanto che in linea di massima il comportamento in gioco e le capacità della creatura siano grosso modo quelle che ci si aspetta dalla creatura che i giocatori dovranno andare a incontrare fondamentalmente non avete problemi qualsiasi altro impedimento può essere semplicemente risolto con del reskin ne abbiamo già parlato in un altro video volete che i giocatori affrontino il capo tribù degli orchi ma non avete un orco con grado di sfida appropriato per farlo spiccare sugli altri utilizzate il profilo di un ogre che avevate già scritto per un'altra quest e descrivetelo come un orco alto tre metri probabilmente se avreste costruito da zero avanzando i dadi vita di un orco fino a fargli raggiungere la taglia grande il suo profilo sarebbe diverso avrebbe capacità speciali diverse ma per quello che succederà in combattimento probabilmente questa cosa non verrà neanche percepita dai giocatori che si militeranno a combatterlo come se fosse un qualsiasi altro orco e ovviamente nulla vi impedisce di tornare poi indietro e magari scrivere effettivamente il mostro orco di taglia grande per inserirlo nella vostra pool se pensate potrebbe tornarvi utile più avanti o di aggiungere man mano tutta un'altra serie di mostri in base a quello che avete visto essere le nuove esigenze della quest bene diciamo che per questo video è tutto probabilmente durato sempre fin troppo e io li sto girando quando le temperature sono ancora troppo alte per farlo per bene se avete avuto problemi con l'audio perché io la finestra aperta si poi noi facciamo i conti più tardi comunque se il video vi è piaciuto come sempre mettete un like e condividetelo che aiuta cresce il canale scrivete nei commenti qui sotto se avete eventuali domande dubbi o perplessità sia su questo video che di nuovo per il video del complanno del canale di tra due settimane se non volete perdervi e notifiche iscrivetevi e schiacciate la campanella se le notifiche non vi arrivano lo stesso in descrizione trovate il link per il gruppo telegram e server disco dove c'è il resto della community del master cae io sono il master cae noi ci vediamo nel prossimo video